Salve a tutti senza luce e benvenuti in un nuovo video qui su Top Games. Io sono Samuel e tardissimo ed oggi andiamo a vedere tre farm di rune davvero conosciute in Elden Ring ancora funzionanti in 1.07. Ebbene sì, nuova patch si va a ricontrollare le farm di rune che sapete essere una cosa davvero fondamentale nel mondo di Elden Ring. Ma questa volta ho deciso di racchiudere le tre farm più canoniche, la più new buy, quindi appena iniziate il gioco, la più conosciutissima ed infine una farm endgame molto carina e prettamente facile accaduta. Ovviamente andremo a vedere in questo caso tre tutte assieme perché sono davvero veloci ma in caso di farm in cui bisogna fare un processo di parkour o fare cose assurde per arrivarci Faremo un video dedicato come abbiamo sempre fatto, niente di diverso dal solito. Prima di continuare con il video però voglio ritagliarmi il solito momento di tempo per ringraziare tutti quegli utenti che hanno deciso di supportare il canale sfruttando abbonamenti e super grazie. Mi state aiutando davvero tantissimo a migliorare i miei video e quindi vi ringrazio. E già che ci siamo, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like ed un commento qui sotto ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. E se avete anche voi il piacere di supportare il canale qui sotto in descrizione trovate tutti i link utili come gli abbonamenti di Supergrazie ed anche il nostro gruppo Telegram dedicato agli sconti per gamers poveri. Iniziamo dalla farm più conosciuta di tutto il gioco, l'uccellaccio del maleaugurio come mi piace chiamarlo. Per poter eseguire questa farm di rune dovremo recarci alla grazia strada per il... strada tortuosa per il palazzo di Mogwin, strada tortuosa per il palazzo, una cosa così, strada tortuosa per il palazzo mi pare. E che oramai vado così tanto in automatico con le grazie che quando faccio i video non mi ricordo precisamente i nomi, perdonatemi, comunque mi sembra sia strada tortuosa verso il palazzo. Nel lago di sangue sotto di noi vedremo un uccellaccio che appunto pascola libero, intingendo le sue zampine nel liquido rossastro. Se noi ci equipaggiamo un arco, che potremmo ottenere dal livello 1, gli spariamo una freccia, beh, lui cadrà giù. Questa qui la farm più conosciutissima del mondo. Adesso io sto facendo tutto questo con il talismano scarabbeo d'oro equipaggiato e mangiando una zampa di gallina in modo da massimizzare al massimo le rune che potrò ottenere. Quante rune ottengo effettivamente con la farm più canonica di Alderingo, ossia l'uccellaccio? Ho fatto la bellezza di 130.000 rune in 3 minuti netti. Facciamo 5 per arrotondare a conto tondo e poter paragonare. 150, ok? Vado su e giù da ragazzi, uccido l'uccello, torno indietro. Tutto nel tempo della zampa di gallina. Ed ottenevo ad ogni uccisione 17k. Questo è il metodo che usano tutti quanti per farmare. Come possiamo arrivare in questo punto? Se ancora non lo sapete, dopo tutto questo tempo, bisognerà portare avanti la quest di Val Re. In modo che lui ci dia l'accesso alla zona di Mogwin. Per fare questo dovremo parlare con Val Re, sconfiggere Godric, ritrovarlo a Liurnia, invadere un paio di mondi, parlare nuovamente con lui, intingere il sangue della Vergine, che c'è tutto un metodo ovviamente per farlo senza arrivare in endgame. Vi basta andare alle chiese di quattro campanili, tornare alla zona dell'attesa, all'iniziale, dove veniamo ammazzati dal re dell'innestato, e intingerlo nel cadavere che troviamo all'inizio del gioco. A questo punto potremo arrivare al palazzo di Mogwin e iniziare a fare questa farm. Passiamo a vedere la seconda farm, che è quella per New Bee, anche detta New Buy. Dove andremo a trovare questa farm? Ci troviamo al dracco tumulo di Greil, a forte Faroth. E lì davanti c'è Greil. Niente proprio di meno che la madre di tutti i draghi, in condizioni pessima, casciata al suolo, sanguinante, morente. Ebbene, se noi arriviamo dall'inizio del gioco, che è quello che potreste fare, vi ritroverete a doverla superare. Fate tutto il percorso che vi porta fino a questa grazia. Se avete le mappe, ovviamente guidato, ma d'altronde chi non ha ancora esplorato tutto il mondo di Ender Ring? In ogni caso, c'è un video dedicato sul canale. Se scorrete indietro, trovate anche come arrivarci. Una volta arrivati, io vi consiglio di appostarvi dove mi apposto io, ma restare sul cavallo. Se restate sul cavallo, avrete più tempo per tornare indietro. Tutto quello che vi serve è un'arma che faccia dei danni spropositati. E dunque, io vi consiglierei il sanguinamento. Un'arma con sanguinamento, in modo da far proccare qualche danno in più. Quando Grail sta per morire, vi girate dal cavallo, tornate indietro la grazia e se vi sedete prima dell'animazione della morte di Grail, essa vi darà le rune. Nel mio caso, che l'ho fatto in New Game Plus, me ne date 200.000. Ma in realtà dovrebbero essere 50.000 se lo fate la prima volta nella vostra prima run. Che, con la zampa di gallina d'oro e lo scarabeo, diventeranno 70.000. E, che dire, è semplice e all'inizio del gioco ci potete arrivare senza combattere nessun boss. e fino a che, tornate indietro in tempo, Grail rimarrà lì per farsi picchiare e darvi delle rune. Io ve la consiglio sentitamente se siete dei nuovi giocatori e volete farmare qualche rune in più. Ovviamente, l'eccedere di tutte queste pratiche può essere sconsigliato perché vi andate a rovinare l'esperienza di gioco se passate 5 giorni a fare tutto questo. Adesso, per uccidere Grail, ci si sta un po' di tempo, 5 minuti relativamente. In questi 5 minuti, io ho fatto 70k. Vale la pena? Sì, no? Forse, se non avete il sottosuolo, se non avete altre farm di rune, early game che conoscete, quindi sapete dove andare, ne vale la pena. Ultima, ma non meno importante, la farm di rune che si trova nella Valle Nevata. Dovremmo recarci, ragazzi, di ordina, città liturgica e seguire il percorso che vedrete a video. In ogni caso, vi basta arrivare dove c'è il TP e buttarvi di sotto. Buttandovi di sotto, andate ad attivare la farm per caduta che fa scendere il soffitto, che quindi schiaccia i nemici e avanti così e voi farmate come dei dannati. Quante volte riuscirete a farla durante il tempo della zampa di gallina d'oro? Per lo meno quattro volte. In quattro volte io ho fatto circa 300k per un totale di tempo di 6 minuti. 600k, scusatemi, in 6 minuti. 600.000 rune in 6 minuti, sono tantissime, secondo me. Poi c'è chi preferisce l'uccellaccio, c'è chi preferisce farmare in altro modo, c'è chi come me ha un suo percorso di farming, che in ogni caso, se volete, ve lo ripropongo. E questa è l'ultima farm di rune, signori. È davvero semplice. Io mi sono sempre buttato a destra del teletrasporto, non so se cambia qualcosa andando a sinistra. Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere voi dove farmate e se conoscete qualche farm di rune che è stata bloccata. Io direi che a questo punto ci troviamo nei commenti per discutere del tutto quanto. Se conoscete qualche farm di rune che è stata tagliata fuori dal gioco, fatemelo sapere, perché almeno mi risparmio il tempo di provarlo io stesso, soprattutto se c'è del parkour, ragazzi. E a questo punto, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like ed un commento qui sotto ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri nuovi video. E se avete anche voi il piacere di supportare il canale, qui sotto in descrizione trovate tutti i link utili come gli abbonamenti, i super grazie ed anche il nostro gruppo Telegram, dedicato agli sconti per gamers poveri. Ciao a tutti senza luce. Ciao a tutti.